Andiamo via col tempo, guardami troppo, adesso tra un minuto ti do l'ordine, chiudi gli occhi, ti do l'ordine, posto ipnotico, quando sentirai la parola chiudi gli occhi, quando sentirai la parola pizza, tu apri gli occhi tranquillamente e tu ti butterai e non avrai paura, le tue paranoie si salvano. Giucas ricordati di toglierle le cusche però, Giucas ricorda le cusche però eh. Prima Alessia hai detto pizza, lei è rollata, quindi magari ancora funziona. Ragazzi sta funzionando, la Cipriani non ha battuto sì. Apri gli occhi, apri gli occhi, apri gli occhi, svegliati, si è addormentata la zona, apri gli occhi svegliati. Se dorme, se dorme, scusa Alessia se dorme non si può buttare, mica si può buttare se dorme. Svegliati, stai venuti, si è addormentata, svegliati, svegliati, al numero 3, al numero che ti svegli, 1, 2, 3, brava, brava, brava. Svegliati, stai svegliata ragazzi.